stampini contro mulino beciu si gioca sul campo della futura in palio un posto in semifinale nella lega dei campioni categoria amatori la formazione di michele roberto parte decisamente meglio agnesa dalla sinistra palla dentro per cogoni il primo controllo non è dei migliori poi col destro palla contro il palo a roberto piras battuto formazione di casa che insiste ci prova ancora agnesa ne esce una conclusione smorzata arriva però moni col destro antonio moni stampini in vantaggio minuto numero 7 la reazione però da parte dei blanco sei istantanea la pulizione calciata da marco desida la sinistra molti battuto sul suo palo non benissimo qui l'estremo difensore degli arancioneri che comunque sarà grande protagonista di questa parità insistono e blanco scuifada bella la girata altrettanto bella la risposta da parte di montis e poi moni da fuori concede il bis antonio moni al minuto numero 16 stampini inebriati dal gol del nuovo vantaggio qui agnesa domestica sul lato destro in area poi ci prova col mancino e bravo roberto piras a dirgli di nostri va a riposo sul seguente parziale stampini 2 mulino becciu 1 andiamo adesso a vedere quello che succede nel secondo tempo la formazione di cristian fanni sembra partire meglio lancio lungo da parte di arzedi l'uscita forse avventata da parte di montis arriva di gran carriera lesio palla conclusione a botta sicura straordinaria la risposta di federico montis boni pallone per cogoni che l'ha da dentro nessuno si occupa di roberto agliesa il numero 21 punisce gol del 3 a 1 al minuto numero 32 è un gol che spacca la parità cui boni vicinissimo alla tripleta negargliela clamorosamente michele roberto leonardo piras ci prova dal lato sinistra in area bravo l'omonimo roberto poi michele roberto dal limite palla fuori di un soffio boni pallone per roberto forse un tocco di troppo ancora boni entra in area michele roberto 4 a 1 stampini al minuto numero 46 due minuti più tardi il gol della bandiera del mulino realizzato da adrian bint gabriel finisce così al campo della futura sales dislargius ad andare in semifinale sono gli stampini